Inco che da tanti anni si occupa di mobilità giovanile, l'associazione, il soggetto principale che in Trentino ha seguito il servizio volontario europeo fino all'altro giorno, di fatto ancora anche fino ad oggi, anche se il servizio volontario europeo, programma promosso, portato avanti dall'Unione Europea, si è appunto trasformato, si sta trasformando potremmo dire, nel corpo europeo di solidarietà. Lascio direttamente la parola ai nostri amici di Inco. Ciao a tutti, io sono Stella, Stella Gelmini, lavoro presso l'associazione Inco, Inco sta per interculturalità e comunicazione e siamo un'associazione di Trento, abbiamo tra l'altro la sede proprio qua dietro a Piazza Venezia, in Via Galilei. Come associazione il nostro obiettivo è quello di promuovere esperienze di mobilità internazionale per i giovani, quindi abbiamo tantissimi tipi di programmi, ma il programma, diciamo, principe dell'associazione è appunto l'ex SVE, chiamiamolo così. SVE era un acronimo che stava per servizio volontario europeo che, grazie a un cambiamento voluto dalla Commissione Europea ancora nel 2016, ha portato al cambiamento del nome del programma e alla creazione del Corpo Europeo di Solidarietà. Il Corpo Europeo di Solidarietà dà diversi tipi di opportunità per i giovani, innanzitutto comprende esperienze sia di tirocinio che di lavoro, ma anche di volontariato e quello per cui noi vi racconteremo e parleremo sono proprio queste esperienze di volontariato, perché, dopo vi racconteremo anche come associazione cosa facciamo, ci impegniamo molto nella promozione di queste esperienze. Pensate che questo programma esiste da più di vent'anni, lo SVE ex, diciamo, quando ancora era SVE, e ha dato la possibilità a tantissimi ragazzi di intraprendere questa esperienza completamente finanziata dall'Unione Europea. Il nostro obiettivo è proprio quello di promuovere queste esperienze e farle conoscere ai ragazzi, oltre che supportare i ragazzi nel partire per l'estero, ma anche nell'accogliere. Io non mi dilungherai tanto su questo, perché magari vi spiego più tardi le caratteristiche, che cosa si va a fare, eccetera, perché ci sono qua vicino a me degli ospiti, tra cui, diciamo, come dire, volontari che stanno avendo adesso la loro esperienza in Italia, oppure sono partiti per un'esperienza all'estero. Una di queste volontarie, che è qua alla mia destra, che non vi dirò per ora come si chiama, perché sennò faccio un po' di spoiler, ha portato delle fotografie per farvi indovinare da dove viene. Le vedete? Ci servirebbe forse qualcuno per mostrare le fotografie sullo schermo, che non riusciamo, eccole. Questa è la prima fotografia, la seconda, la terza, chi è che voglia un po' di indovinare. Turchia? No, non è la Turchia. Armenia? Non è proprio l'Armenia? Non è l'Iran? No? No? Come? Non è Libano? Quasi. Adesso ve lo faccio dire da lei. L'ha detto? Sì? L'ha sentito? Georgia, brava, esatto. ed è lo stesso paese da cui viene anche l'altro volontario che vedete in fondo a destra. Adesso vi racconterà un po' lei. Non so come devo accendere il sito. Ah, non si vede? Vabbè, racconta così, dai. Aveva una presentazione che però non so se si riesce a mostrare che sta arrivando. Intanto ti passo un po' la parola. Un attimo solo e... No, il sito. Esatto. Eccolo qua. Buongiorno, io sono Macco e come avete capito vengo dalla Georgia. Tanti tanti mesi fa volevo sempre venire in Italia perché parlavo un po' italiano e volevo fare questa esperienza che sto facendo adesso, quindi vivere in Italia per un periodo né lungo né breve. E quindi il progetto SVE che sto facendo adesso era una di poche altre possibilità che potevo fare. Quindi mi sono messa a cercare i progetti e alla fine Inco mi ha detto che mi ospitava e ho fatto tutto questo viaggio. Sono venuta da Georgia fino a Trento che è un po' lontano. Ho fatto la valigia e sono venuta qui senza sapere dove andavo, con chi dovevo vivere, però anche questa è la parte di questa esperienza che è proprio la rende proprio bellissima in questo punto perché sei alla sfida e non sai esattamente cosa devi fare, però lo fai. Sono arrivata quindi a Trento con l'aereo e mi hanno detto che mi aspettava la casa e mi aspettavano altri ragazzi che dovevano fare il progetto con me e dovevamo condividere tutto, la casa e tutta l'esperienza che la condividiamo da quasi adesso otto mesi. Il giorno dopo sono andata ad Inco per presentarmi e per conoscere Stella e altre nostre colleghe. Inco è l'ufficio che si occupa di mobilità giovanile e io faccio il mio volontariato proprio nell'ufficio di comunicazione. Non avevo idea cosa dovevo fare e proprio dal primo giorno mi hanno detto che devi fare questo, 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 questo. e facendo proprio tante cose questa esperienza diventa ancora più bella perché se non fai niente io ho sempre questa sensazione che perdo il tempo, però se faccio tante cose ti imparo proprio tanto. Però c'è sempre questa domanda, cos'è lo SWE? Tutti ci chiedono quando incontriamo altre persone o quando andiamo ad un incontro, cos'è lo SWE per te? Qui non c'è solamente una risposta, ci sono tantissime risposte che è l'esperienza lavorativa per me perché mi piace un sacco lavorare in ufficio, conoscere la lingua, la cultura, nuovi amici, viaggiare perché siamo in Europa e possiamo fare le vacanze. assolutamente la sfida perché ci sono le cose che non sei sicura, vuoi fare, non vuoi fare, puoi o non puoi. Però non solo, c'è anche tanto divertimento con altri ragazzi che fanno il volontariato e con altre persone che ho conosciuto qui in questa città e ho fatto tante amicizie. Quindi il mio consiglio sarebbe partecipare a questo progetto che non si chiama più lo SWE, però si chiama ESC e ne parleremo un po' fra pochissimo. E quindi non aspettate niente, partecipate, fate tante domande e alla fine anche voi troverete quello che abbiamo trovato noi. Grazie Marco. Io adesso passerei un attimo la parola a un altro nostro volontario che lo lascio presentarsi. Buongiorno a tutti, mi chiamo Iracli, sono Giorgiano I do volunteering in Municipale di Lavis e I can definitely say that the European Soldati Course Programme è definitely a life-changing experience for me e what I want to mention is that in the small city of Lavis I metto a lot of people around the world I don't know, from Indonesia, from Sri Lanka, from Kenya a lot, a lot and this experience is full of full of amazing moments and also I metto a lot of really amazing people and now where I work there are people that are I don't know, they will be forever my friends Hi Gigi Annalisa Annalisa Yonis I'm so glad to meet those people and I don't know, I suggest you to take this possibility and change your life by changing others too Grazie mille per esperienze Italia Bravo Allora, come avete sentito Marco e Iracli vengono entrambi dalla Georgia e stanno intraprendendo questa esperienza in diverse fasi Marco è qua già da qualche mese ormai, è arrivato a settembre e invece Iracli è appena arrivato quindi sta imparando ancora l'italiano Marco è ospitata presso la nostra realtà la nostra associazione invece Iracli è presso il comune di La Vista e c'è anche Luigi Maffezoli tra noi che è il suo referente del comune di La Vista e sul palco però vediamo anche un'altra persona questo diciamo è il primo lato della medaglia di un'esperienza di corpo europeo di solidarietà quindi accogliere ragazzi in Italia volontari esteri in Italia che vengono dalla Georgia ma da tutti i paesi dell'Unione Europea e limitrofi ma allo stesso tempo c'è la possibilità di intraprendere questa esperienza per i ragazzi italiani in paesi dell'Unione Europea e non solo e abbiamo qui una testimonianza di una ragazza italiana che ha intrapreso questa esperienza che le passerei la parola così vi racconterei che cosa ha fatto ciao a tutti sono Chiara io sono Trentina e sono partita l'anno scorso a dir la verità ad aprile ormai è passato già un anno dalla partenza ho fatto otto mesi in Lituania di volontariato e diciamo che le motivazioni che mi hanno spinto a partecipare sono molte e sono anche molto personali io stavo attraversando un po' una crisi diciamo esistenziale quasi nel senso che dal punto di vista di carriera lavorativa ero un po' diciamo sì propriamente in crisi non sapevo se il titolo di studio che avevo acquisito quindi l'università che avevo fatto era quella giusta e se anche l'esperienza lavorativa che stavo facendo ho completato il praticantato per esempio per diventare commercialista tre anni e insomma alla fine mi stavo un po' chiedendo se quello che stavo facendo fosse veramente ciò che volevo e quindi mi sono presa proprio del tempo per me stessa per ridefinire quelle che erano le mie priorità e quindi ho un po' iniziato a fare una ricerca su quelle che erano le offerte europee e ho scoperto lo SVE casualmente perché mi sono resa conto di quante poche persone conoscessero effettivamente questa opportunità e sono partita grazie a Inco per un progetto in Lituania io mi sono laureata in economia e ho deciso di fare qualcosa di completamente diverso quindi sono partita per un progetto nella tutela ambientale sono andata a lavorare in un piccolo paesino in mezzo alla Lituania in mezzo al niente essenzialmente molto isolato perché c'erano solamente 3.000 persone in questo paese e sono andata a lavorare per un parco naturale regionale e le attività erano le più disparate soprattutto molto fisiche io venivo insomma da un'esperienza dove facevo il mio lavoro in ufficio quindi seduta alle 40 ore settimanali e quindi ho proprio cambiato sono andata in questo parco e era manutenzione parco e quindi c'era manutenzione dei sentieri tagliare l'erba monitoraggio dei visitatori perché essendo anche zona turistica comunque facevano monitoraggio di quanti turisti visitavano il parco nell'anno in estate monitoraggio di alcune specie animali e vegetali e queste sono dal punto di vista di attività che ho svolto e poi lo SVE dà la possibilità anche di di prendere l'iniziativa quindi di promuovere alcune attività per esempio avevamo molti contatti all'interno della scuola di un liceo che c'era in questo paese e quindi abbiamo organizzato degli incontri per promuovere lo SVE ma anche attività personali per esempio io ho voluto organizzare un progetto di cucina all'interno della scuola proponendo dei piatti tipici italiani quindi abbiamo cucinato la pizza abbiamo cucinato il tiramisù e poi ho proposto la crostata come insomma un po' anche piatti molto semplici da ripetere a casa per i familiari e questo progetto per esempio è molto piaciuto tanto che la mia insegnante di lituano perché all'interno dello SVE è prevista anche la possibilità di fare un breve percorso un breve corso di lingua del paese in cui si viene ospitati e la mia professoressa mi ha detto guarda abbiamo fatto un sondaggio alla fine del primo semestre di scuola e abbiamo chiesto quale fossero una delle lezioni che è piaciuta di più e sono rimasta felice che alcuni studenti avessero detto che era particolarmente piaciuto il corso di cucina se così posso definirlo e quello che mi porto via da questa esperienza è una rete di amicizie un po' sparsi per tutta l'Europa e non solo perché appunto ho conosciuto anche ragazzi brasiliani dallo Sri Lanka ma soprattutto diciamo io ho acquisito molta sicurezza in me stessa quindi è proprio un'esperienza dal punto di vista molto personale anche emotivo un anno fa non mi sarei mai aspettata di essere qui davanti insomma a una platea a parlare con così tanta tranquillità devo dire e quindi sono contenta di quello che ho raggiunto dal punto di vista dal punto di vista personale e di coraggio e di coraggio nel prendere decisioni e infatti adesso sto per partire tra un mese parto e andrò a Dublino a fare un per un altro diciamo questa volta nel mio ambito economico vado a fare un tirocinio di sei mesi e poi spero di poter trovare lavoro là e quindi fare un'esperienza un po' più lunga all'estero grazie grazie allora come avete sentito abbiamo appunto sentito le due facce della medaglia del famoso SVE a dire la verità come l'hanno nominato loro perché perché lo SVE famoso il servizio volontario europeo sta vivendo questo forte cambiamento di passaggio anche al corpo europeo di solidarietà che adesso si chiama così per esempio Chiara era partita quando era ancora SVE per quello che nominano spesso lo SVE ma oggi è corpo europeo di solidarietà con diverse anche diciamo modalità e attività diverse anche che si possono fare all'interno di questo programma la cosa sostanzialmente principe di questa esperienza è quella di impegnarsi a livello sociale ma non solo al fine di promuovere valori molto carri all'Unione Europea come la solidarietà è per quello che si chiama corpo europeo di solidarietà e come avete sentito dalla possibilità a giovani di intraprendere questa esperienza noi come adesso mettere le slide se fosse possibile così vi faccio un po' una carellata e lascerei un paio di minuti poi alle domande so che abbiamo i tempi un po' ristretti quindi magari faccio un po' veloce su questo dove devo puntare ah da qua ok beh questo appunto è la nostra associazione come vi dicevo e questa appunto è la nostra mission che ne abbiamo già parlato e questi sono gli attori fondamentali di un'esperienza nel corpo europeo di solidarietà quindi c'è il volontario ne abbiamo conosciuti alcuni esiste un'organizzazione di accoglienza abbiamo sentito che esempi di organizzazioni di accoglienza possono essere Inco per Macco il comune di Lavis per Iracli o questa realtà questa organizzazione che era attiva nell'ambito naturalistico e dell'ambiente le organizzazioni di accoglienza hanno un ruolo fondamentale quello di accompagnare il volontario durante l'esperienza e all'interno dell'organizzazione c'è una figura di riferimento un tutor che accompagna le attività del volontario poi esiste un'organizzazione di supporto questa organizzazione di supporto nel vostro caso per esempio che siete italiani deve essere per forza in Italia noi per esempio siamo stati l'organizzazione di supporto per Chiara che ha intrapreso questa esperienza all'estero e ha un ruolo fondamentale quello di accompagnare i volontari o i potenziali volontari ragazzi italiani nell'intraprendere questa esperienza ma soprattutto spiegare e dare delle informazioni su come si ricercano i progetti e poi di questo ci soffermeremo un attimo e ne parleremo e ovviamente il quarto attore fondamentale è l'Unione Europea perché grazie all'Unione Europea che tutto ciò è possibile e vedremo perché dopo questi sono gli ambiti famosi in cui si può intraprendere un'esperienza di volontariato noi abbiamo sentito alcuni esempi quindi Macco lo fa nell'ambito della comunicazione i racli sicuramente nell'ambito dell'animazione giovanile ma non solo supportando il comune di Lavissa in diverse attività chiara nell'ambito ambientale ma ce ne sono tantissimi altri ambiti in cui si può intraprendere queste esperienze la cosa fondamentale è che sta a voi la scelta di quale ambito di quale progetto vi piace di più e poi vedremo a chi ha rivolto un'esperienza di questo tipo è rivolta a ragazzi tra i 18 e i 30 anni ora ho sentito che siete del liceo linguistico qua di Trento e che quindi avete diciamo tutto il tempo necessario per pensarci e per considerare questa opportunità sappiate che si può intraprendere tra i 18 e i 30 anni e quanto dura? Dura tendenzialmente tra i 2 e i 12 mesi come avete visto anche loro stanno intraprendendo un'esperienza di diversa durata dove si può andare? in tutti i paesi dell'Unione Europea ma non solo abbiamo sentito anche la Georgia e altri diciamo paesi confinanti l'Unione Europea ed è un'esperienza molto interessante e chiaramente anche la destinazione spetta alla persona che parte capire dove andare cosa si riceve in cambio? il famoso quarto attore fondamentale di questo programma abbiamo detto che è l'Unione Europea perché l'Unione Europea finanzia totalmente questo tipo di esperienza ossia sostiene i costi per il vitto l'alloggio il viaggio andato a ritorno da un pocket money quindi una paghetta mensile al volontario che va all'estero fornisce una formazione pre partenza e soprattutto durante l'esperienza e post esperienza e finanzia anche un corso di lingua online del paese di destinazione quindi grazie all'Unione Europea è possibile intraprendere questa esperienza gratuitamente quali sono i requisiti per partecipare di solito i ragazzi mi chiedono ma che livello di lingua devo sapere per andare in un paese ora Chiara corregimi se sbaglio ma tu il lituano prima di arrivare in Lituania non lo sapevi no? ecco non è che non viene richiesto un determinato livello di competenza linguistica perché sarebbe impensabile di sapere determinate magari lingue magari noi si studia il tedesco l'inglese lo spagnolo il francese a scuola ma non tutte le lingue dell'Unione Europea quindi ci sono due requisiti fondamentali per partecipare l'età che bisogna avere tra i 18 e i 30 anni e la motivazione per intraprendere questa esperienza che ruolo abbiamo noi come associazione lo abbiamo detto poco fa accogliamosi a volontari presso la nostra associazione coordiniamo enti che ci sono sul territorio trentino nell'accoglienza di questi volontari che ogni anno ne accogliamo tra i 20 e i 25 e allo stesso tempo aiutiamo i ragazzi nell'intraprendere questa esperienza a proposito di accoglienza abbiamo appena vinto un progetto europeo di corpo europeo di solidarietà che ci darà la possibilità di accogliere 52 volontari da qua alla fine del 2021 una cosa fondamentale però è questa in tutto il discorso che abbiamo fatto perché ci siamo resi conto che come associazione lavoriamo ormai da più di 15 anni su questo tema e di solito i ragazzi dicono ma sì mi piacerebbe andare all'estero anche io pensavo così anche io dicevo così mi piacerebbe andare all'estero ma cerchiamo di capire insieme per dove per quanto tempo per che motivo cosa ti piacerebbe andare a fare ed è per quello che noi offriamo questo servizio di orientamento ogni martedì pomeriggio l'abbiamo realizzato grazie alla collaborazione con Non Profit Network il centro di servizi volontariato di Trento che si trova a Trento Nord e sono diciamo appuntamenti che organizziamo a tu per tu come ne li chiamiamo quindi dedichiamo almeno un'ora ad ogni ragazzo che ci chiama in associazione fissiamo un incontro e lo aiutiamo a capire come si potrebbe anche intraprendere questa esperienza del Corpo Europeo di Solidarietà il principio e quindi volentierissimo nel momento in cui aveste bisogno e foste interessati questi sono i nostri contatti spendo due ultime parole su questo tipo di esperienza allora questo tipo di esperienza è un'esperienza incredibile perché perché ti permette anche di fare un po' di ordine nella testa a volte voi tra qualche un anno un anno e mezzo finirete le scuole superiori come? non ho capito un anno finirete le scuole superiori e alla fine delle scuole superiori almeno personalmente alcune persone hanno molto le idee ben chiare su cosa fare altri ragazzi non ne sono insomma così sicuri il mio consiglio spassionato è a volte conviene anche fermarsi nella vita e pensare e cercare di capire che cosa si potrebbe fare da grandi e come abbiamo sentito dalle testimonianze anche di Chiara un'esperienza di questo tipo aiuta anche a chiarirsi le idee perché metti le mani in pasta fai volontariato fai qualcosa di attivo fai non vai all'estero e studi ma ti sperimenti ti metti in gioco conosci una nuova lingua impari una nuova lingua che sicuramente è fondamentale voi che fate tra l'altro il linguistico sapete che è fondamentale anche nel mondo professionale futuro ma soprattutto siete da soli lì da soli nel senso non è che siete con altri italiani o con l'amica o l'amico e quindi imparate tutta una serie di competenze abilità che solo stando in un contesto estero si riescono a intraprendere e ad imparare sicuramente avrete già avuto esperienze di questo tipo ma intraprendere un'esperienza di due dodici mesi quindi di lungo periodo è tutta un'altra cosa ultimissima cosa e poi appunto vi lascio andare è volevo spendere due parole su come si parte solitamente si deve scegliere attraverso dei siti ufficiali dell'Unione Europea il progetto specifico che vi può interessare quindi noi come associazione proprio in questi incontri di orientamento siccome qui abbiamo a disposizione poco tempo ed è un ragionamento che si fa di solito anche a tu per tu facciamo vedere i vari siti dove ricercare i progetti spieghiamo nuovamente meglio nel dettaglio questi aspetti e cerchiamo insieme dei progetti che possono essere fatti al caso vostro non so se intanto avete domande avete curiosità da chiedere sì allora l'esperienza ESC si può fare tendenzialmente una volta nella vita si può intraprendere un'esperienza si può allora o si fa una volta nella vita per una durata di lungo periodo oppure si può fare un'esperienza di massimo 59 giorni in un paese i criteri sono abbastanza stringenti e poi un'esperienza anche di lungo periodo successivamente fino a un massimo di 14 mesi totali e quindi sì puoi fare un'esperienza di breve periodo da una parte poi intraprendere un'esperienza di lungo periodo più avanti quello che io consiglio spassionatamente è investite tempo su questo tipo di esperienza perché i primi tre mesi solitamente per questione di adattamento di lingua sono i più difficili e poi raccogliete i frutti di tutte le difficoltà che fate all'inizio quindi investite almeno almeno sei mesi in un'esperienza di questo tipo non so se ci sono altre domande curiosità io volevo sottolineare una cosa che stella ha detto prima che è molto importante noi come Europe Direct seguivamo una volta il servizio volontario europeo la motivazione partite se siete motivati a fare qualcosa vi porto un esempio la prima ragazza che avevamo mandato all'estero a fare lo SVE forse perché avevamo voglia di mandare tutti i costi il primo volontario dopo dieci giorni mi arriva il fax c'erano ancora i fax allora che mi dice la ragazza non c'è più da due giorni è sparita qui da dove lo spettiamo non vi dico che giornata che ho passato quel giorno lì comunque finalmente la sera ho scoperto lei era andata via da là era andata da suoi parenti perché sta ragazza qua noi non avevamo fatto un colloquio approfondito non avevamo capito che lei andava in beggio era andata in beggio aveva avuto un moroso in beggio col quale voleva rimettersi assieme quell'altro evidentemente non ne voleva sapere per niente e quindi lei disperata se n'è andata via e noi non l'avamo capito evidentemente perché non abbiamo fatto un colloquio approfondito quindi andate fate l'esperienza se avete la motivazione per farla sì la motivazione è fondamentale ma soprattutto anche al di là di questa splendida opportunità capire se siete pronti anche ad intraprendere un'esperienza di questo tipo perché un conto è stare via io suggerivo i sei mesi però uno se la deve anche sentire cioè non è che i sei mesi sono obbligatori se uno dice no guarda io me la sento solo un mese per ora in questa fase della mia vita benissimo però questi incontri di orientamento servono proprio a questo per capire che cosa vi piacerebbe dove andare che possibilità ci sono perché l'ESC è una delle tante possibilità che l'Unione Europea tra l'altro offre prego ma per esempio una volta che sei fuori e stai un mese inizialmente decidi di stare un mese successivamente capisci che ti trovi bene puoi rimanere lì anche più tempo no i progetti vanno proprio a se tu scegli un progetto di un mese è un mese perché sono strettamente collegati con i finanziamenti europei quindi no questo non è possibile allungare nel momento in cui uno si trova bene però se vai un mese puoi sempre successivamente intraprendere un'esperienza di lungo periodo e magari in un altro posto ma se invece al contrario io mi trovassi male potrei tornare prima cioè sì certo nessuno obbliga nessuno a stare in un contesto in un paese magari dove non ti trovi bene quello certo che puoi tornare l'obiettivo però non è partire poi se se non mi trovo bene magari torno l'obiettivo è quello di capire già in partenza una soluzione appropriata in modo tu che riesca a concludere l'esperienza perché tornare prima da un'esperienza di mobilità internazionale da un'esperienza all'estero comporta anche tutta una serie di fattori di rielaborazioni personali del fatto non ce l'ho fatta non mi è piaciuto e rielaborare da giovani un'esperienza così che difficoltosa e anche a volte che interpretano come fallimento non è così facile quindi è per quello che appunto facciamo questi incontri è per cercare insieme una soluzione più adatta insomma a tutti bene vi ringrazio grazie anche a voi ragazzi grazie a Stella a Marco a Chiara a Heracli per aver portato l'esperienza e per aver dato ai ragazzi fatto capire ai ragazzi questa veramente interessante opportunità che ho offerto dall'Unione Europea grazie ancora grazie grazie a tutti